Un fondo da 50.000 euro per la creazione di una start-up attraverso un bando aperto ad Under 36 della città di Cerignola con la voglia di mettersi in gioco e mostrare la forza delle idee di un territorio vivace, volenteroso e capace. Il sindaco Bonito ha incontrato i familiari di Donato Monopoli, il cittadino ucciso 5 anni fa, la cui storia ha subito smosso la sensibilità dell'intera città. Nel corso dell'incontro il sindaco ha sottolineato la vicinanza dell'amministrazione a tutta la famiglia di Donato con l'auspicio che quanto prima si giunga a garantire la giustizia che la storia di Donato Monopoli merita. Il sindaco ha poi illustrato l'iniziativa fortemente voluta dal consigliere comunale Sorbo e sostenuta dall'assessorato guidato da Sergio Ciadella di un fondo per 5 start-up innovative che nasceranno nella città di Cerignola con un importo pari a 10.000 euro per ogni attività. Era un ragazzo laborioso, desideroso di espandere la propria attività, così lo ha definito il sindaco Bonito nell'imprenditoria. Voleva realizzare una grande fetta del suo presente e del suo futuro e vogliamo che questo percorso continui idealmente con i progetti che vedremo nascere nei prossimi mesi, ha concluso il primo cittadino.